Il mio consueto ben trovato al pubblico di Talk Sicilia che segue i nostri speciali elettorali durante i quali vi stiamo presentando i candidati di questa tornata elettorale del 25 settembre questo election day che nessuno di noi si aspettava fino a qualche settimana fa ma che è diventato realtà. Doppia tornata elettorale, lo sappiamo ormai tutti ma lo ricordiamo per chi non avesse ancora avuto l'occasione di informarsi una doppia tornata perché ci saranno politiche quindi Camera e Senato, ci sarà anche la regione siciliana ed è nostra gradita ospite in studio oggi Caterina Chinnici, buonasera grazie per essere qui con noi, candidata alla presidenza della regione siciliana, candidata per un campo progressista, un campo del centro-sinistra che però è diverso da quello iniziale. Chi segue quotidianamente i fatti della politica sicuramente lo sa però è giusto che noi ricordiamo che Caterina Chinnici ha vinto le primarie di coalizione, una coalizione nella quale c'erano anche i 5 Stelle poi però nonostante i tentativi di trovare un punto di incontro, i 5 Stelle sono usciti da questa coalizione ed hanno un loro candidato, Nuccio Di Paola, che è già passato da questi studi, era seguito esattamente in quella serie appena l'altro ieri e che ci ha raccontato il suo punto di vista. È giusto e corretto sentire il punto di vista adesso anche di Caterina Chinnici. Intanto partiamo proprio da qui che è cronaca e quindi dobbiamo un po' raccontarla. Come ha vissuto questa vicenda che l'ha subita in buona sostanza quello che è successo? Ma guardi, effettivamente sì, io ero candidata per le primarie di un gruppo diciamo costituito da tre partiti quindi un'alleanza del campo progressista sostenuta appunto dal PD, dal Movimento 5 Stelle e dai Centopassi. Si sono fatte le primarie mentre purtroppo si è verificata a livello nazionale la crisi di governo e poi ecco è iniziato un momento di diciamo discussione, dibattito interno al Movimento 5 Stelle relativo al mantenere o meno l'alleanza in Sicilia e quindi mantenere il sostegno alla mia candidatura. Io ho voluto in quel periodo essere assolutamente rispettosa, cioè non fare dichiarazioni di alcun genere rispetto a questa situazione, ho voluto essere rispettosa di quel dibattito interno e attendere la decisione. Una decisione del Movimento 5 Stelle che purtroppo ha cambiato completamente lo scenario rispetto al quale era sorta la mia candidatura. E quindi non posso non dire che questa situazione, il venir meno del Movimento 5 Stelle all'alleanza del campo progressista mi ha portato a dover rivedere un attimo, fare una riflessione più attenta perché indubbiamente manca una parte consistente del sostegno alla mia candidatura essendo venuta meno una delle componenti di quell'alleanza. Però poi ecco il senso di responsabilità nei confronti degli oltre 15 mila siciliani che mi avevano votato alle primarie, l'impegno preso con i siciliani, l'amore per questa terra, mi hanno indotto comunque a portare avanti, a proseguire, diciamo ad accogliere la candidatura che mi è stata riproposta dal PD e dal Movimento 100 Passi e quindi ad andare avanti. Però indubbiamente in uno scenario politico decisamente cambiato rispetto all'inizio di questo mio percorso. Durante questo percorso che poi ha portato alla separazione con i Cinque Stelle lei ha anche tentato di riunire un paio di volte, forse tre, tutte le componenti di quella coalizione, ormai la definisco al passato, ma cosa non ha funzionato? Ma guardi, noi avevamo comunque tentato di andare avanti e devo dire che da parte del Movimento 5 Stelle diciamo in sede locale, pur essendoci quel dibattito interno anche a livello regionale, c'era comunque questo stimolo ad andare avanti, a lavorare sul programma, perché in realtà la mia era una posizione un po' super partes, di garante di quell'accordo che si sarebbe concentrato nel programma. Quindi abbiamo continuato a lavorare, abbiamo continuato a crederci e a sperare che potesse rimanere con quell'alleanza nella sua integrità, però purtroppo evidentemente sul piano poi squisitamente politico l'accordo poi è venuto meno. Ecco, questo ha comportato, è una domanda che ho fatto anche a Nuccio Di Paola per la sua parte, ha comportato dei ritardi nella campagna elettorale di tutti i componenti della coalizione, forse loro meno di quanto non sia successo a voi, ma comunque dei ritardi e questo è un problema in una campagna elettorale così breve. Beh sì, c'è stato un momento di rallentamento e quindi adesso scontiamo un po' questo ritardo, però io sono convinta che il ritardo è recuperabile, nel senso che già in realtà una parte di campagna elettorale per quanto mi riguarda era stata fatta durante le primarie e adesso stiamo intensificando, d'altronde in realtà per tutti i candidati si può dire che sta iniziando in questi giorni la campagna elettorale, quindi un ritardo recuperabile. E quindi adesso possiamo cominciare a parlare di programma, ci avete lavorato molto e so che qualcosa ce la può anticipare. Sì, in effetti il lunedì prossimo qui a Palermo ci sarà il segretario nazionale Enrico Letta che apre la mia candidatura e si parlerà del programma, però ecco il programma al quale abbiamo lavorato è un programma che guarda, e questo l'ho voluto fortemente, alle persone, ai siciliani, alle siciliane, ai giovani. È un programma che guarda alla possibilità vera di sviluppo della nostra regione, quindi un programma che tocca diversi aspetti, si rivolge molto ai giovani, perché io credo che quando si parla di sviluppo si deve guardare al futuro e quindi costruire il futuro soprattutto per i giovani. Quindi è un programma che guarda alla formazione, che guarda all'inserimento nel mondo del lavoro, guarda alla tutela dell'ambiente, guarda alla transizione ecologica, guarda a tutti quegli aspetti che poi nella prima parte di campagna elettorale sono emersi e cioè quelle esigenze di dare veramente sviluppo al nostro territorio. E poi la cosa importante per me, davvero importante, è la valorizzazione dei finanziamenti europei, il PNRR, ma anche i finanziamenti strutturali, perché è inaccettabile che in una regione come la nostra, che ha bisogno di avere risorse per lo sviluppo, quando quelle risorse ci sono poi non si riesca invece ad utilizzarle. E a questo si ricollega, parlando sempre di programma, si ricollega un altro aspetto che per me è fondamentale ed è il buon funzionamento dell'amministrazione regionale, perché noi possiamo fare le migliori riforme in tema di infrastrutture, in tema di sanità, in tema di rifiuti eccetera, però se poi non c'è un'amministrazione che è in grado di rendere in provvedimenti concreti quelle riforme, allora tutto si vanifica, quindi un'amministrazione efficace, un'amministrazione efficiente, trasparente e è impermeabile a possibili interferenze del malaffare, un'amministrazione che sappia valorizzare le risorse finanziarie per trasformarle in interventi concreti per la nostra regione. Lei ha citato a PNRR e più in generale a risorse europee e lei è un europarlamentare, cosa porta dunque della sua esperienza da europarlamentare e della conoscenza di alcuni modi di ragionare, diciamo così, che vengono dall'Europa, cosa porta di questa esperienza nel suo programma e nel suo approcciarsi all'amministrazione? Lei ha detto modi di ragionare, è vero, una visione io credo più ampia, che vada oltre i confini della nostra regione, quindi un approccio al tema dei finanziamenti europei diverso, perché non bisogna dimenticare che i finanziamenti europei sono concepiti perché destinati a 27 paesi che hanno realtà diverse, quindi bisogna, io dico, entrare nella logica di quei finanziamenti per poterli poi spendere e spendere bene e quindi sarà importante, ed è un'idea del programma, costituire un ufficio apposito con dirigenti e funzionari specificamente formati all'utilizzo dei finanziamenti europei e quindi ai progetti che rispondano ai bandi europei. E poi un'altra, credo di portare con me dall'esperienza europea un'altra considerazione, l'importanza del ruolo della Sicilia, la Sicilia è al centro del Mediterraneo e io dico la punta avanzata dell'Unione Europea, dell'Europa nel Mediterraneo, quindi la Sicilia deve essere valorizzata per dialogare con gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, per diventare, come dire, se vogliamo, il punto di riferimento di tutte le politiche che possono guardare e aprirsi ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. E deve farlo in maniera, io direi, quasi autonoma, con quell'autorevolezza che viene dall'essere consapevoli di poter avere un ruolo importante per la regione Sicilia, per l'Italia, ma anche per l'Europa. Mi deve perdonare però, ma questo concetto che è assolutamente condivisibile, io lo sento dire da 30 anni ed è un concetto per il quale, oltretutto, io personalmente ho anche lavorato ad alcuni incontri che sono avvenuti all'inizio degli anni 2000, che avevano questo come base ma non si è mai concretizzato. Come portare questa cosa in concreto? Ma guardi, io credo che le idee vanno poi trasformate nei fatti, quindi avere un programma, avere un progetto, avere i giusti collegamenti con le istituzioni europee, proprio per dialogare direttamente, perché noi purtroppo l'Europa spesso l'abbiamo sentita in realtà lontana, forse la percezione dell'Unione Europea, che noi chiamiamo, io dico familiarmente, l'Europa, l'abbiamo avuta purtroppo in occasione della pandemia di Covid-19, perché in quel momento l'Unione Europea è stata presente con il sostegno ai paesi, ma in realtà l'abbiamo sempre avvertita un po' lontana, invece no, io credo che bisogna proprio porsi come riferimento concreto e dialogare direttamente con l'Unione Europea per essere il riferimento dell'Unione Europea nelle relazioni anche con gli altri paesi. Pensiamo per esempio al tema della transizione ecologica, al tema delle energie rinnovabili. Per la nostra posizione geopolitica noi possiamo davvero, dialogando con gli altri paesi che si affacciano anche sul Mediterraneo, essere come dire una regione pilota per la sperimentazione di nuove energie rinnovabili, quindi concretamente questo si può a mio avviso realizzare. Ha toccato il tema dell'energia ed è un tema che oggi è veramente importante e sensibile, perché uno dei grandi temi inutili nascondercelo è proprio quello del costo dell'energia, costo dell'energia che sta mettendo in ginocchio molte imprese e quando diciamo in ginocchio non è una fase fatta, so personalmente di imprese che rischiano veramente di chiudere domani mattina per questo effetto. Bisognerà in qualche modo intervenire a gamba tesa su questi temi? Beh sicuramente, bisogna intervenire intanto proprio per incentivare sotto tutti i profili le energie rinnovabili, quindi per esempio intervenire per riqualificare gli edifici pubblici e privati proprio in funzione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, intervenire per esempio l'illuminazione pubblica, rivederla, modernarla proprio per ridurre il consumo di energia che spesso purtroppo mai va sprecato e incentivare per esempio le famiglie al scegliere di realizzare degli impianti di autoproduzione di energie rinnovabili, incentivandole sostanzialmente diciamo con dei contributi e poi in questo momento però l'emergenza è quella del caro Bollette come bene ha detto lei e allora diciamo l'idea è quella di istituire un fondo di solidarietà regionale a sostegno delle famiglie diciamo con i redditi più bassi ma anche delle aziende, delle attività commerciali perché possano far fronte ad un momento di grandi difficoltà, quindi anche degli interventi immediati e concreti. L'epoca parlava di un'amministrazione efficiente, efficace ma anche trasparente e impermeabile, questo è stato uno dei grandi temi anche di questa campagna elettorale e anche di un dibattito interno ai partiti che la sostengono. Ma guardi sì, questo certamente è di fondamentale importanza, io sono stata ormai dieci anni fa per due anni, ma un po' meno di due anni in realtà, assessore al governo regionale e una delle cose di cui sono, devo essere sincera, fiera è aver fatto una legge di riforma della pubblica amministrazione regionale, la legge 5 del 2011, una legge che era proprio all'insegna della trasparenza della pubblica amministrazione, dell'efficienza della pubblica amministrazione, conteneva anche la informatizzazione della pubblica amministrazione, strumento anche questo di trasparenza, conteneva le modalità e i tempi definiti delle procedure, proprio per evitare quei tempi incerti in cui si possono introdurre anche interventi esterni. E poi conteneva, anticipandoli di due anni, le normative anticorruzione. E la corruzione, lo sappiamo, è stato detto da noi, dal procuratore nazionale antimafia in Italia, ma in Europa io lavoro su questi temi, purtroppo la corruzione è lo strumento che utilizza la criminalità organizzata moderna per infiltrarsi laddove ci sono grossi finanziamenti, grossi appalti. E allora una legge che sia blindata sotto questo profilo è di fondamentale importanza perché sappiamo già, ed è stato sollevato anche questo a livello europeo, che la criminalità organizzata tende ad infiltrarsi laddove adesso arrivano questi finanziamenti europei così consistenti. Allora ci vuole una pubblica amministrazione che abbia delle norme che non consentano assolutamente che si infiltri anche attraverso la corruzione, si possa infiltrare il malaffare. Di fatto la campagna elettorale l'ha aprita il lunedì 5 anche con l'arrivo dell'Essecretario nazionale del PD, Enrico Letta. Da quel momento avrete una maggiore presenza sul territorio suppongo perché una delle critiche che vengono mosse a Caterina Chinnici è che non la si vede nel territorio. Questo chiaramente dagli avversari. Certo, ma io direi che questa in realtà se mi consente è una critica gratuita, nel senso che pensi mi è stata addirittura chiesto se io abito in Sicilia, io faccio lavoro da 8 anni al Parlamento europeo tutte le settimane, 3 settimane Bruxelles e una Strasburgo, io ogni settimana torno a casa prendendo 4 voli per andare e tornare da Bruxelles e ben 6 voli per andare e tornare da Strasburgo. Io sono presente sul territorio, ho girato tantissimo, ho fatto tante iniziative e l'ho fatto anche adesso, però io forse, io dico forse sono brava fra virgolette a lavorare perché lavoro tanto, un po' meno forse a comunicare, però ecco io non sono stata assente, io ho avuto come dicevo prima, ho voluto avere rispetto e quindi attendere che si chiarissero talune problematiche che sono sorte in questo periodo purtroppo nel mese di agosto relativamente alla situazione dei 5 Stelle e a qualcos'altro, ma io sono sempre stata presente, ho sempre continuato comunque ad avere degli incontri magari non pubblici, magari non pubblicizzati, ma io non ho smesso di lavorare, ho continuato a lavorare per la campagna elettorale. Poi l'essere un po' riservata, avere scelto coerentemente con la mia natura, una campagna elettorale che non sia lo scontro, che non sia salire sul ring, che non sia lanciare accuse o suscitare o partecipare a polemiche, questo fa parte della mia natura. Però ecco se mi consente vorrei aggiungere anche un'altra cosa, è vero che la vivacità di una campagna elettorale può suscitare l'attenzione di tanti cittadini, però io vedo che ci sono anche tanti cittadini che hanno bisogno proprio di invece un approccio più sereno, di avere una persona che si impegni, che lo faccia in maniera serena e che mi viene detto magari susciti anche per questo la fiducia dei cittadini. Quindi un atteggiamento meno urlato. Sicuramente, sì, sicuramente. C'è una scelta che avete condiviso separatamente, ma avete fatto la stessa scelta, lei e Schifani, quella di non partecipare a confronti? Ebbè, per quanto mi riguarda nasce solo da questo, ecco, dalla scelta di una campagna elettorale, come dice lei bene, non urlata, una campagna elettorale che non è una campagna contrassegnata dallo scontro. Io l'ho detto fin dall'inizio, la mia è una candidatura per i siciliani e per la Sicilia, la mia non è una candidatura contro quel governo, contro un altro candidato. E siccome purtroppo nei confronti, quasi sempre, il confronto finisce per essere un po' uno scontro, finisce per essere un po' un lanciarsi, diciamo, accuse reciproche, eccetera. E allora diventa scontro. Io ripeto, io non voglio salire su un ring. Per me la candidatura, il mio impegno per la Sicilia è un impegno proposto in maniera serena, proposto senza scontri, ma proposto se, ecco, questo risponde al mio modo di essere, in maniera positiva, propositiva, determinata, questo sì, ferma e determinata, ma diciamo con quella serenità che possa, ripeto, suscitare la fiducia dei cittadini, in maniera pacata, ma con le idee ben chiare e con una forte determinazione. Andiamo a tempo per le ultime due domande, che sono quelle che ho posto a tutti i candidati che sono venuti qui. La prima, eletta Presidente della Regione domani mattina, nei primi 100 giorni, quali sono, qual è la prima o le prime due cose che farebbe? Ma per me è difficile rispondere a questa domanda, perché forse sarebbe più facile di rispondere alla domanda quali sono nei primi 100 giorni le cose che non farebbe, perché per me tutte le cose, diciamo, ecco, le iniziative e tutti i temi inseriti nel programma sono assolutamente pari livello, però certamente nella mia intenzione è proprio quella di iniziare dalla riforma, se così la vogliamo chiamare, o dalla revisione della pubblica amministrazione regionale, perché come ho detto è fondamentale rispetto alla possibilità poi di attivare ogni altra iniziativa, ogni altra misura. E sicuramente quindi la pubblica amministrazione, motivare i funzionari, motivare i dirigenti, perché ce ne sono di ottimi, lo so perché sono stata dentro la Regione, quindi sicuramente questo, rivedere subito la legge 5 del 2011 per, diciamo, aggiornare quelle parti, sono passati 10 anni che possono essere, diciamo, suscettibili di aggiornamento, e quindi avviare immediatamente la macchina amministrativa e poi guardare con grande attenzione ai giovani. Nelle mie intenzioni c'è anche un po' di rivedere, diciamo, l'organizzazione istituzionale della Regione, perché l'idea è di creare un assessorato dedicato proprio alle politiche giovanili. Io ho grande fiducia nei giovani, so che i nostri ragazzi sono intelligenti, sono ben formati dalle nostre università e mi fa rabbia che debbano andare fuori per poter realizzare i loro, diciamo, le loro ambizioni. Allora dedicare un'attenzione particolare ai ragazzi proprio con un assessorato che si occupi di questo aspetto delle politiche giovanili, ovviamente in tutta la sua completezza, diciamo. L'ultima domanda, quella che anche in questo caso faccio a tutti, è l'appello al voto, ovvero perché un siciliano deve votare Caterina Chinnici? Perché Caterina Chinnici ha scelto di candidarsi per amore e solo per amore della sua terra? Perché Caterina Chinnici conosce la bellezza e la sofferenza di questa terra, che porta anche dentro di sé e vuole lavorare per dare a questa terra veramente un impulso di sviluppo. Ce ne sono oggi le condizioni, sicuramente bisogna guardare al futuro della nostra Regione guardando soprattutto ai giovani. Caterina Chinnici ha forse un approccio un po' diverso rispetto a quello classico, diciamo, della politica, ma sicuramente ha una forte determinazione, ha un'esperienza maturata in tanti settori, in tanti ambiti, quello della pubblica amministrazione, quello della politica, quello europeo, quello dell'alta amministrazione, quindi porta con sé un forte impegno, un impegno autentico e genuino che è amore per questa terra e attenzione soprattutto per i giovani, perché io voglio che i giovani siciliani possano scegliere di realizzare le loro ambizioni in Sicilia trovando tutte le condizioni per farlo. C'è, ripeto, una competenza e un'esperienza consolidata in diversi settori, c'è la visione europea e poi c'è un piccolo valore aggiunto, Caterina Chinnici è una donna, sarebbe la prima donna, Presidente della Regione Siciliana e io credo che la Regione Siciliana sia matura per avere una Presidente donna. Bene, grazie Caterina Chinnici per questi 24 minuti che ha passato con noi e con voi per raccontarvi se stessa le sue idee per la Sicilia e per far sì che possiate farvi una vostra idea in vista di ciò che dovrete andare a scrivere sulla scheda il 25 di settembre. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questo nuovo appuntamento e vi rinnovo l'appuntamento come sempre per il prossimo Talk Sicilia. Arrivederci. Grazie a tutti.